Applausi a scena aperta al Teatro Sociale per il conferimento della medaglia d'oro della città di Bergamo alla regina delle nevi Sofia Goggia, sciatrice bergamasca, insignita dal sindaco Giorgio Gori e dal presidente del Consiglio Comunale Ferruccio Rota nell'ambito di un consiglio comunale straordinario aperto al pubblico. Sofia, vincitrice di un oro e di un argento alle Olimpiadi e di tre coppe del mondo di sci, ha portato negli ultimi anni il nome di Bergamo nel mondo grazie ai suoi successi sportivi. Nell'occasione è stato proiettato in anteprima assoluta un docufilm sull'atleta di Bergamo. Sono due donne diverse. Un'orificenza in una sessione straordinaria a giugno perché chiaramente noi a dicembre siamo super pieni e quindi non sarei mai riuscita ad incastrarli con quelle che sono le tempistiche degli eventi e delle competizioni a cui siamo sottoposti. Io sono una abbastanza o bianco o nero, però cerco di essere anche multicolor. Non mi viene tanto bene, tanto spesso, però fondamentalmente o mi metto a fare una cosa bene oppure farla a metà in quella che è qualcosa da cui scappo, cioè la mediocrità, piuttosto non la faccio e non mi affaccio nemmeno per tentare di affrontarla. In che cosa ti senti proprio Bergamasca? Nell'indole, nell'indole orodica. Grazie.